Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Con questo nuovo appuntamento Mazinga Z, uscita numero 3, edizione Ascette, un robot alto 75 cm che una volta appoggiato sulla base del centro di cerche fotoniche arriverà a 90 cm. Se non avete ancora sottoscritto l'abbonamento e avete intenzione e potete farlo, non esitate, non esitate perché siamo davanti a qualcosa che mai prima di ora è stato fatto, soprattutto come struttura interna, qualcosa che soltanto se andate a vedere i tutorial giapponesi che se non ricordo male sono arrivati all'uscita numero 77, quindi tre quarti della collezione l'hanno già terminata. Guardate che cosa c'è sotto le coperture e rimarrete veramente a bocca aperta. Andiamo a vedere il montaggio di questo fascicolo numero 3. Io mi sono portato un po' avanti perché sapete che questo canale si occupa soprattutto delle persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini. Quindi ho cercato di guardare quale possono essere le problematiche, ma non vi preoccupate perché è tutto sotto controllo. Allora, innanzitutto andiamo a vedere i pezzi. Abbiamo questo che è in plastica ed è il sostegno dei raggi congelanti, materiale ABS. Poi abbiamo questo, sempre in ABS, verniciato, feritoie del raggio ciclonico. Abbiamo questo che è in acciaio, diffusore del raggio ciclonico. Ecco, se guardate questa foto, vi può trarre in inganno. Ve la faccio vedere. Guardate. Vedete che si vede la trasparenza di questo? Perché è circolare. Ecco, non vi preoccupate perché in realtà questo è completamente chiuso, come lo sarà anche il vostro presumo. Quindi non vi preoccupate perché non vedrete alcuna trasparenza. Mi sono fatto la domanda, ma come fa ad uscire fuori l'acqua nebulizzata? Non lo so, ho capito il sistema qui, ma una volta messo questo davanti che chiude tutto, non lo so. Però si garantiscono che funziona e quindi non ci dobbiamo preoccupare. Poi abbiamo le due luci LED che sicuramente sono azzurre, poi le testeremo. Abbiamo il tester per controllare appunto che tutti i LED siano perfettamente funzionanti. Questa è una cosa importante. Abbiamo la centralina di prova. Abbiamo le antenne dei raggi congelanti in zinco pressofuso, verniciate bellissime. Fate attenzione alle punte perché potreste ferirvi. E mi raccomando, questo è un prodotto da collezione per collezionisti, non adatto a bambini o comunque ragazzi che hanno un'età non pari almeno a 14 anni. Poi se c'è il papà che se ne prende cura o il fratello maggiore, ci mancherebbe. Poi abbiamo le antenne sinistre del raggio congelante e il destro che sono in stirene. Con la punta, vedete, trasparente che farà intravedere grazie alle fibre ottiche la luce azzurra, anche se non credo che ci siano fibre ottiche perché il LED va inserito qui e poi messo in questa maniera. Quindi no, non sono fibre ottiche, è proprio il raggio che rifletterà la luce qui e la farà vedere. Poi abbiamo questi che sono i diffusori del raggio ciclonico. Non vi dovete preoccupare perché sono simmetrici, quindi potete usare sia uno che l'altro per lato destro o sinistro. E infine abbiamo questi che sono i passacavi LED, quelli che poi consentiranno al LED di rimanere perfettamente nella sua sede stabilita, che poi adesso andiamo a vedere. Questi per evidenziare i cavi, con la sua lettera e il numero. E abbiamo tre viti, come potete vedere due non ci sono perché io mi sono già portato un po' avanti. Andranno avvitate nella plastica, una l'avanzerete, non usate alcun tipo di lubrificante. Bene, troverete anche un link in descrizione di Patreon, che è una piattaforma che consente a noi, che abbiamo appunto il canale YouTube, di poter ricevere delle donazioni da parte di chi vorrà sostenere, in questo caso il mio canale, ad andare avanti e ad avere vita. Quindi grazie ragazzi, se non lo farete non ci sono problemi perché non avete alcun obbligo, è una cosa che viene dettata dal cuore e basta. E per chi invece, ripeto, non lo farà, non vi preoccupate perché mi state visualizzando. Quello solo che vi chiedo, con tutto il cuore, è quando c'è la pubblicità, non mandate l'avanti perché è l'unico modo per farmi entrare qualche briciola di pane. Tutto qui. Ok ragazzi, grazie. Allora, procediamo. Prima cosa da fare. Io mi vado a mettere un paio di guanti. Ecco qui. Ne metterò soltanto uno, in questo caso il destro, perché io non sono mancino. Voilà. Poi vi serviranno tre pile AA e un cutter che non è indispensabile e consigliato perché andremo a togliere eventuali eccedenze di plastica. Ecco qui. Ok. Leviamo. Vedete, non bisogna mai toccare il led, ma io mi sono messi i guanti, quindi non ci sono problemi, ecco perché l'ho toccato liberamente. Allora, guardate. Prima cosa. Prendete questo passacavo, non importa così o al contrario, non importa. Stringete queste due parti che si tocchino. Così. prendete questo e lo mettete in questa maniera, guardate. A filo led. Aspettate che vi ingrandisco l'immagine, se ce la faccio. non cercate di metterlo in questa maniera, guardate. Non cercate di metterlo così, perché rischierete di danneggiare sicuramente le parti. Quindi lo fate entrare di qua, semplicemente così, vedete. Ok. Poi, solo se avete i guanti, altrimenti non toccate il led, prendete questo o uno o l'altro, ne avete due di pezzi, ok? e inserite il led così. Io vi consiglio, adesso vi faccio vedere, di dare un'unica direzione ai led. in questo caso, io non fa alcuna differenza, lo faccio per un discorso mio di posizione. In questo caso, metterò il filo rosso in linea con questa parte qua, più grande, una è più sottile e una è più grande. Vedete? E non vado a spingere i cavi, ma spingo il led, la plastica nera. Vedete? Controllo un attimo. Sì, va bene. Ecco. Metto questo in linea, così, perfetto, e lo spingo. A filo, guardate. Ok. Ecco qua. Lo mandiamo tutto a filo contro. Ecco. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Prendo questo, lo inserisco così, e lo inserisco così. e lo inserisco così. Vi ricordate? La parte più grande sopra, filo rosso sopra, questo a filo led, ecco qui, il passacavo, questo nero, a filo led, e lo inserisco. Perfetto. E abbiamo fatto il primo passaggio. Adesso, prendiamo questo, lo mettiamo così, e andiamo a mettere il primo e il secondo, con la parte più spessa che va a incastrarsi qua, in questo scasso. Vedete? E premiamo. sto facendo una prova, è uguale, vedete? Premete tutto contro, la parte più larga sopra, scusatemi, sì, così è giusto, la parte più larga sopra, la facciamo entrare, più larga, scusatemi, più grande, per capirci, aspettate, perché io ci tengo che non si fraintenda ciò che voglio dire. Ecco, guardate, abbiamo questa parte qui, che è più stretta, ma è più larga come sezione. Questa invece è più larga, ma è più fine. Ecco, questa va nella parte bassa, ok? Quindi così, ecco, spingete bene dentro, senza andare a schiacciare i cavi, dovete spingere le due estremità e deve andare a toccare, queste le tiriamo poi giù così, deve andare a toccare completamente la plastica qua sotto, anche se vi rimane mezzo millimetro, ma più di così non va, ecco, non diventate matti, è giusto, piuttosto tiratelo anche un po' da qui, così, ecco, abbiamo fatto. Io adesso mi levo questi ed ecco qua. Poi, cosa facciamo? Ecco le viti che sono andato a mettermi prima, vedete? quelle che ci danno in dotazione per questa sessione di montaggio. Vanno avvitate qui. Io mi sono creato il filetto, non è indispensabile farlo nella plastica, io lo faccio perché è una buona abitudine, danno non ne faccio e va bene così. Ecco qui. A questo punto andiamo a mettere questo. Ok? Così. Piegate un po' questa parte finale delicatamente verso l'alto, agevolerete di più. Un attimo. Così. Spiggete così i cavi in su delicatamente. Ecco qua. e inserite. Dopodiché andiamo a mettere le viti. Grazie a tutte le persone che mi visualizzano e che si iscrivono al canale. Che attimo alla campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie a tutti. Allora, a questo punto prima di procedere come ci dicono loro facciamo una cosa importante. Andiamo a metterci gli adesivi identificativi dei due cavetti del raggio congelante che abbiamo appena messo. Quindi giriamo così in posizione così determiniamo visto dal davanti il destro della luce che abbiamo appena messo del raggio congelante e il sinistro ovviamente a seconda di come si guarda. Adesso lo stiamo guardando dal davanti. quindi andiamo a mettere l'adesivo A7 da questa parte a mezzo centimetro dallo spinotto scusate ma prima di tutto non stavo inquadrando e me ne sono solo accorto adesso. Seconda cosa non è così semplice guardare nel telefonino e riprendere tutto. Ecco qua. Perfetto. Abbiamo detto il destro A7 vedete questa è la parte frontale e per esclusione andiamo a mettere l'A2 e l'unico rimasto libero quindi il sinistro. Io penso che ognuno di voi ormai che abbia visto i tutorial giapponesi si è reso conto di quanto sia meravigliosa questo robot. Ecco qua. Bene. A questo punto torniamo indietro ci dice di prendere questa parte e andiamo a inserirla nell'unica posizione possibile perché così ovviamente non si può. premiamolo al centro e lo facciamo andare in battuta anche qui sotto. Ecco qua. Ora andiamo a inserire questo però io ho notato che è molto meglio prima mettere questo pezzo qui così questo deve inserirsi qua a pressione dovete spingere vedete? L'unica cosa che mi sono anche accorto quando prima di fare il video mi sono messo a guardare cosa potervi dire e consigliare e che non sta un gran che in posizione un attimo solo scusatemi ma ho messo un po' in pausa perché ho dovuto guardare qualche cosa ad esempio risolvibilissimo perché basta ridurre un po' gli spazi che permetteranno agli occhi di rimanere perfettamente ancorati nella sede dedicata adesso vi faccio vedere allora questo poi va messo così abbiamo i perni uno qui e uno qui li andiamo a inserire nello spazio suo ecco qua adesso vi dico di cosa vi stavo parlando vedete? io ho inserito tutto perfettamente bene ripeto poi lo risolverò fatemi solo sapere nei commenti se anche voi avete avuto questo problema perché balla un po' questa guardate cosa succede anche se tutta inserita perfettamente schiacciata non può andare oltre vedete però se io faccio così lei cade quindi non è tenuta assolutamente nella sua sede comunque ripeto non c'è da preoccuparsi risolveremo anche questo allora adesso controllate se avete fatto tutto giusto oltre a questo montaggio che non è nulla di difficoltoso basta fare attenzione vedete lo schema qua ci dice schema degli occhi l'occhio destro chiaramente questo qua visto da dietro deve avere i due segni e lettere e numeri anzi a 3 e a 1 questo per comandare l'occhio destro l'occhio sinistro deve avere a 5 e a 6 vedete ecco qua bene a questo punto il montaggio è terminato però ci danno la possibilità di andare a controllare se tutti i led sono funzionanti quindi mettiamo questo su off ok e controlliamoli e poi ci salutiamo guardate il disegno per non sbagliarvi ovviamente mi rivolgo a quelli meno esperti perfetto adesso prendiamo questa e andiamo a inserire per inserire teniamo il dito dietro di contrasto e spingiamo non spingete così perché lo sforzo lo sforzo la spinta è eccessiva e probabilmente potrebbe a forza di provare di saldare il pezzo quindi ecco contrastiamolo eccolo qua l'abbiamo inserito perfetto adesso andiamo a provare tutti i fili ma attenzione questo che è l'A4 non dovete provarlo non ci dicono di provarlo probabilmente lavorerà con un'altra potenza quindi mi raccomando ok non provate ad inserire questo l'A4 lasciamolo perdere cominciamo dai raggi congelanti che abbiamo appena messo in questo caso proviamo l'A2 andiamo a inserirlo in questo più piccolo questo non ci serve adesso come li inseriamo tutti così guardate non con la parte non con la parte che si vede qui dei metalli ma in questa maniera con la parte liscia vedete tutta bianca ogni spinotto dovete inserirlo così lo fate entrare tenete il contrasto dietro il dito e spingete lo spinotto con l'unghia ecco qui e andiamo a provarlo perfetto mettiamo l'antenna beh adesso chiaramente non si vede perché è tutto illuminato provo un po' a togliere delle luci ecco guardate poi ovviamente se spengo vediamo cosa succede ecco lui ci spende ecco qua guardate che spettacolo va bene dai scusate se c'è un po' di buio ma vi volevo far vedere tutto acceso così allora per andare a toglierlo accendiamo almeno questa aspettate diciamo così va abbiate pazienza ma sto cercando di ottimizzare quanto più riesco il lavoro per farvi vedere perché vedete con le luci accese poco si vede comunque questo funziona l'abbiamo visto andiamo a sfilarlo sfiliamo anche questo prima di farlo dovete mettere in posizione off non levatelo così il led datemi retta il led il contatto poi prendete la parte bianca e tirate indietro quella non il cavetto ok bene adesso proviamo l'altro raggio congelante il sinistro A7 stessa cosa vedete la parte completamente bianca sopra la inseriamo dito di contrasto dietro e facciamo così per tutti gli spinotti e accendiamo perfetto funziona anche questo siamo a cavallo adesso andiamo a provare i tre led degli occhi non questo facciamo così ecco fate un bel nodo al cavo A4 e questo non lo provate adesso andiamo a provare A1 e A3 diminiamo un po' le luci allora ecco qua questo forse è il led singolo vediamo se l'altro fa più luce ovviamente questo è il singolo e quello che accenderemo adesso è il doppio proviamo no questo è il singolo quello che abbiamo acceso prima era il doppio funziona anche l'occhio destro chiamiamolo occhio andiamo adesso a provare A5 e A6 il lato sinistro A5 scusatemi ecco qua e infine l'ultimo meno male sono contento funziona tutto ecco qua perfetto bene via questo ecco qui fatemi solo sapere nei commenti appunto se anche voi avete questo problema che io andrò sicuramente a risolvere se poi qualcuno vorrà avere qualcosa in merito alla risoluzione del problema e mi faccia sapere che vi spiegherò come fare non credo che tutti avranno questo problema perché nei video tutorial nessuno ne ha parlato quindi ecco e basta stavo sempre pensando come caspita fa a uscire la la nebulosa diciamo l'aria non l'aria l'acqua nebulizzata da qui che è tutto chiuso io avrei pensato a una griglia aperta questa è chiusa boh va bene ragazzi volevo mettere le due punte quelle metalliche questa di qua fa fatica entrare vediamo se va dall'altra parte ovviamente se mettete quelle metalliche non potrete assolutamente vedere sto riscontrando un piccolo problema nell'inserimento corretto l'inserimento è corretto ma non arriva fino alla fine ma sì poi vedremo non posso averlo sbagliato perché se lo mettiamo di qua non entra lo stesso fino alla fine vedete rimane lo spazio qui però questo si riesce a poi aggiustare di sicuro non è quello problema mettiamo queste che mi sembra che siano almeno entrate bene eccole qua queste di queste che si possono illuminare sono entrate bene solo che la parte trasparente va sull'anteriore vedete sono le luci ovviamente non si possono vedere quindi ecco questa va qui vedete parte trasparente davanti e dietro ovviamente verniciata se le montiamo sbagliate le luci non si possono vedere ecco qua voilà guardate guardate che spettacolo che bella immaginatevi poi con il jet builder sopra che meraviglia con Koji Kabuto all'interno che spettacolo bene ragazzi abbiamo fatto vedere tutto adesso procederò a preparare il video numero 4 mi raccomando iscrivetevi al canale e se avete piacere di darmi un sostegno metto il link in descrizione fate voi ragazzi a me comunque mi fa piacere che mi guardate e che appreziate il mio impegno grazie a tutti un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele ci vediamo al prossimo video ciao ciao